Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Le nozze arrivano a quasi un anno dalla proposta, ma il ritardo, dovuto anche alle mille curve e alle impennate del covid, è compensato da una cerimonia strepitosa. Sono state nozze da favola, quelle di Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti. Prima il sì nella chiesa di San Salvatore a Monte a Firenze, poi un ricevimento in una villa storica. Il calciatore della Fiorentina e la ex Miss Italia erano bellissimi ed emozionati, mentre si scambiavano le promesse di fronte a numerosi invitati, tra cui i compagni di squadra dello sposo Cristiano Biraghi e Lorenzo Venuti. Poi, durante il party, si sono lasciati andare a balli scatenati. La luna di miele sarà alle Maldive, resort di lusso, acque cristalline, insomma, la perfezione. Non fosse per un intruso che incrina un po' l'atmosfera romantica. Infatti, Gaetano si è portato dietro il fisioterapista. A fine aprile, il campione Viola è stato operato al ginocchio e la riabilitazione non può attendere. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie. Grazie.